La CGL presenta alle lavoratrici e ai lavoratori la proposta della Carta dei Diritti Universali del Lavoro. La Carta è un progetto di legge d'iniziativa popolare che stende e aggiorna lo Statuto dei Lavoratori per dare risposte e tutela a tutti. Ed è un percorso mobilitante perché prevede, come stiamo facendo, la consultazione degli iscritti e degli iscritti. Si faranno migliaia e migliaia di assemblee, in questo territorio oltre 300 assemblee e alla fine di questo percorso che si conclude il 19 marzo si partirà con la raccolta delle firme. E quindi noi contiamo di raccogliere milioni e milioni di firme, quindi di una condivisione ambia da parte del mondo del lavoro e dei cittadini di questo Paese, perché poi ci si confronti con le altre organizzazioni, con le forte politiche e con il Parlamento. È una proposta rivoluzionaria di grandi contenuti che serve a rimettere al centro il valore sociale del lavoro che in questi anni è stato molto purtroppo svalorizzato e pensiamo che sia una scommessa molto importante e per vincerla dobbiamo proporre, come stiamo facendo, un cambio culturale in questo Paese. Il 10 marzo sarà il segretario nazionale della CGL, Susanna Camusso, che poi alle 13 sarà in conferenza stampa con i giornalisti, a chiudere l'assemblea all'advitorium del Parco, l'iniziativa della CGL provinciale con la funzione pubblica. Quindi la nostra proposta non è l'abrogazione, la mera risposta al Jobs Act, è sostanzialmente una proposta di legge ed iniziativa popolare che finalmente guarda non al mondo del lavoro degli anni 70, quindi a uno statuto dei lavoratori che era rivolto alle aziende, alle imprese con più di 15 dipendenti e per gli assunti a tempo indeterminato, ma un mondo del lavoro che oggi è caratterizzato dal lavoro precario, dalle collaborazioni, dalle associazioni in partecipazione, anche dai tempi indeterminati ovviamente, dal lavoro interinale. e questa proposta di legge ed iniziativa popolare si rivolge finalmente a chi lavora, a prescindere dal luogo in cui lavora, dalla dimensione d'impresa, dall'ente e dal tipo di contratto che ha. Ed è evocativa nella Carta dei diritti universali dell'uomo, perché noi riteniamo che chi lavora, a prescindere da dove lavora, debba avere dei diritti garantiti.